12 aprile 1910. Nasce a Trieste Gillo Dorfless, critico d'arte, pittore, filosofo e professore universitario di estetica. Dorfless fonda nel 1948, insieme a Monet, Mazzon, Munari e Soldati, il Movimento per l'arte concreta. Il mondo artistico deve molta riconoscenza a Gillo Dorfless, una delle personalità più colte e raffinate del Novecento, sempre attento agli sviluppi dell'arte e dell'estetica contemporanei. Tra le decine di libri, due sono dedicati all'architettura e un saggio al disegno industriale. Nel 2010 pubblica 99 più 1 risposte di Gillo Dorfless, una lunga intervista dove racconta la propria vita e alcuni suoi incontri particolarmente significativi, come quelli con Italo Svevo ed Andy Warhol. Muore nel 2018.